Svolta per il futuro di Prima Comunicazione Group di Olgiatecomasco, lunedì 18 luglio riprenderà l'attività del laboratorio per la riparazione di articoli elettronici con una nuova gestione ed una trentina di lavoratori. Un traguardo reso possibile anche grazie a tutti i lavoratori che hanno dato fiducia alla strada indicata dalla Fim Cisle, nonostante le criticità attraversate, commenta Gennaro Aloisio, segretario organizzativo che ha seguito la partita per la Fim Cisle dell'Aghi, il sindacato dei lavoratori. Dopo infatti le vicende giudiziarie dell'aprile scorso che hanno portato all'arresto dell'amministratore unico, il sindacato ha chiesto un incontro al prefetto di Como e al giudice delegato del fallimento con l'obiettivo di mantenere le commesse e non precludere l'attività futura. A premiare, conclude Aloisio, è stato l'atteggiamento costruttivo dei lavoratori che hanno accettato di non fermarsi pur nella totale incertezza del futuro. Gli stessi clienti, riconoscendo gli sforzi del personale e la loro professionalità, non hanno rescisso i contratti. Grazie. Grazie.